Senti ma diciamo qui a tutti quante ragazze hai? Sì ne ho quattro Ma di queste quattro ragazze qual è stata la peggiore? L'ultima E perché? Ce l'ho ancora E la prima? E' morta E' morta? Sì E come è morta? Funghi Funghi avvelenati? Sì Ma allora starei con la seconda? No è morta Scusa ne hai quattro anche la seconda è morta? Sì E come è morta? Funghi Funghi avvelenati pure questa? Sì Ma allora starei con la terza? No è morta Anche la terza? Sì E come è morta? Funghi Funghi avvelenati? Sì Va bene guarda allora starei con la quarta? No è morta Funghi avvelenati? No con una martellata Una martellata? In testa E chi la data? Io E perché? Non vuole mangiare i funghi? Ah vabbè ok perfetto Eh va bene va bene Senti adesso io ti lascio un attimo Io voglio fare un qualcosa di straordinario con loro Allora io proporrei Come mai gracchia un po'? Va bene così Proporrei uno di voi Un volontario Chi viene? Chi viene? No 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 Qualche che ne so Qualche bell'uomo Chi viene? Chi viene? Vieni tu? No Batman No 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 Dai qualcuno vuole lì Non è che lo mangio eh Chi viene? Tu tu vieni tu Vieni vieni qua Leva tutto Ok Fate un applauso Siete morti però Ok ok Allora intanto io Lo porto a lina Ti presenti Dici il tuo nome e cognome Ti vergogni? No Beh Dici il tuo nome e cognome Sono Luca Montecchiani Grazie Bene Sa Che succede? Chi lo sa Ok Guarda Dobbiamo fare una cosa semplicissima Intanto vi si può Un altro applauso Che si sta vergognando da cane Va bene Allora La cosa è facile Adesso io ti Hai visto il pupazzo Adesso io ti trasformerò In un pupazzo Tu ci credi? Eh Di sì Come? Di sì? Sì Che stupido Beh un applauso ancora Due parole Io un n***a Papà Papà Papi Sa Bene Bene ok Allora Grazie Fate le foto Perché ora Dove sono un po' pazzo Bene Il gioco è molto facile Tu guardi loro Puoi alzare la cassa un po' di più L'audio Si può alzare Sa Ci sentiamo Bene Allora tu guardando loro Guarda loro Non mi devi mai guardare a me Quando stringo la mano Apri la bocca Più che vuoi Ci sei? Ok Se stringo la mano una volta L'api una volta La bocca Ok Sei pronto? Prova il microfono No no Apri la bocca un po' di più Ce la fai a farlo due volte? Anche tre Ok bene Ma stringo troppo forte? No no Mi piace Ok bene Senti Cosa devi fare Quando stringo la mano? Eh Per chiudo No ok La voce come prima Si Ok bene Hai capito? Eh Allora quando senti stringere due volte Tu continui ad aprire e chiudere la bocca Come se dovessi pronunciare Mamma Ok? Si Bene 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 Che fantastica serata Io sono professore Sei un professore? Si E di che cosa? Antropologia Antropologia? Ma secondo te l'uomo discende dalla scimmia? Anche la donna Anche la donna? Si Cosa te lo fa pensare? Mia suocera Va bene Ma tu ti senti un diretto discendente della scimmia? Io si E a quale specie appartieni? Al gandrino Va bene va bene Ma tu cosa fai nella vita? Io ho una pizzeria Hai una pizzeria? Si Mogli? Una Figli? Due Nome? Margherita e cagricciosa Ma tu sei sposato? Sei singolo? No no sono singola Come mai sei singolo? Mi piace fare tutto da solo Mi piace fare tutto da solo Beh come dice il proverbio Chi fa da sé Diventa cieco La mamma Vai eh Dai qua c'hai una moglie Cosa hai fatto per Insomma tu da quanti anni hai che sei sposato? Trent'anni Trenta? Si Beh Cosa hai fatto quest'anno in vacanza? Che ne so Quest'estate dove sei andato? Sono andato le 6 cent Davvero? Si con mia moglie Con tua moglie Si Si è stato bene? Si E l'anno prossimo dove la porti? Vado a prendere Vabbè vabbè Lascia da là Eh vabbè 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 Allora facciamo un saluto Perché ormai hai detto Hai fatto le cazzate Ti fai il cazzaro Quindi vabbè dai ti mando via Salutiamo Canta una bella canzone così a cappella Di San Pietro Apri la bocca Ce no ce no Vabbè vabbè Cosa fai quando stringo la mano? Godo No apri la bocca Chiudiamo con la canzone Canta All'alba vincerò Si Vai All'alba vincerò Vincerò Io vincerò Grazie Grazie mille Bravo bravissimo Grazie a tutti Continuiamo a divertirci qui Lungo questo lido con i cosplay Grazie a tutti Per me è stato un onore Grazie ancora Grazie Grazie mille E grande Simone E adesso ripetiamo